E' ricoletta dopo l'insoddisfacente risultato elettorale traghetterà il PD fino al congresso da tenersi in tempi brevi e non si candiderà alla guida del partito. Se oggi la destra governerà e per la scelta di Conte di far cadere Draghi per vincere era necessario il campo largo, non c'è stato, non per colpa del PD. Saremo opposizione intransigente. Nel corso della conferenza stampa post voto il segretario democratico ha puntato il dito contro gli ex alleati. Siamo stati vittime di fuoco amico. Sulle nuove alleanze non ci sarò a scheggere.